Torniamo a parlare di sanità perché c'è stato il primo giugno un pronunciamento unanime del Consiglio regionale che ha approvato una mozione relativa agli operatori sociosanitari contrattualizzati a partita IVA, si parla di una proroga fino al 31 luglio. Poi c'è stata una presa di posizione ieri da parte del Movimento 5 Stelle che chiede in realtà provvedimenti strutturali, un bando che possa dare alla sanità tutto il fabbisogno di personale necessario con contratti a tempo pieno e indeterminato. Allora consigliere Primiani di che cosa si tratta? Innanzitutto c'è da dire che la mozione approvata lo scorso martedì in Consiglio regionale non ci lascia affatto soddisfatti perché è una mezza vittoria, si chiede la proroga dei contratti per ulteriori due mesi ma questo non risolve il problema strutturale della sanità in Molise. Tampona ancora una volta un'emergenza, qui c'è bisogno di programmazione, di programmazione soprattutto sul lato delle risorse umane e del personale sanitario. Quello che chiediamo è la definizione di ulteriori bandi per inquadrare in maniera indeterminata e definitiva e quindi stabile ulteriore personale a partire dagli operatori sociosanitari fino ad arrivare agli infermieri ma forse la cosa più importante è quella che riguarda i medici e soprattutto i primari perché ad oggi, è bene ribadirlo, in regione Molise e negli ospedali del Molise mancano ancora le figure apicali in grado di gestire i reparti, mancano i primari, mancano i medici e ASREM si ostina a pubblicare bandi spot per due tre mesi di incarico. Ecco Primiani, la questione delle questioni è il commissariamento e l'azzeramento del debito. Qual è la posizione del Movimento 5 Stelle su questi due temi? Noi non possiamo che essere favorevoli all'azzeramento del deficit in sanità, tuttavia è bene ribadire che per avere credibilità agli occhi del Parlamento, agli occhi del Governo nazionale bisogna andare lì dimostrando che il Molise ha finalmente raggiunto un sistema sanitario sostenibile anche dal punto di vista economico. Non possiamo andare a Roma a perorare la causa di un abbattimento del debito se ogni anno produciamo nuovo debito, quindi bisogna innanzitutto, e questo lo deve fare la regione Molise e la struttura commissariale, bisogna innanzitutto trovare un punto di sostenibilità economica, quindi iniziare a chiudere i bilanci della sanità a zero. Dopodiché si può andare a Roma e quindi avere la credibilità per dire azzerate il debito e permetteteci di ripartire con nuovo slancio, ma fino a quando non troviamo un punto di sostenibilità economica non avremo la credibilità per perorare questa causa e basta guardare l'ultimo bilancio in sanità che chiude con un disavanzo di 120 milioni di euro. Come si può andare a Roma a chiedere l'azzeramento del debito se ogni anno generiamo ulteriore deficit sanitario che varia dagli 80 ai 120 milioni di euro? e allora Grazie.